Oggi è la giornata mondiale della bicicletta, un'invenzione semplice che ha cambiato il mondo. La storia della bicicletta è molto più lunga di quel che normalmente non si creda, perché già nel 1700 esisteva il celerifero, che pur non avendo freni, sterzo o pedali, ebbe il merito di mostrare al mondo come un essere umano potesse stare in equilibrio, anche solo su due ruote. Nel corso dell'Ottocento nacque il biciclo, un celerifero che aveva i pedali, pedali che però erano collegati direttamente alla ruota anteriore, che per questo era di dimensioni notevoli, anche un metro e mezzo, cosa che relegò questo mezzo a un numero ristretto di equilibristi che rischiavano rovinose cadute. Fu l'idea di inserire una trasmissione a catena nel 1884 e quattro anni più tardi l'introduzione dei pneumatici ad aria da parte di Dunlop, che crearono una vera e propria rivoluzione. Le biciclette invasero le strade e il cuore di tutto il mondo. L'innato bisogno di superare ogni limite scatenò imprese davvero ragguardevoli per l'epoca. Basti pensare che già nel 1897 un giovane americano armato di coppola e baffetti era riuscito a percorrere in pista più di 40 km in un'ora e c'era chi, negli stessi anni, era riuscito sempre in pista a percorrere 859 km in sole 24 ore. Nel 1903 prese il via il Tour de France e solo sei anni più tardi il primo Giro d'Italia, che vide la partenza di 127 concorrenti e l'arrivo di soli 49, per otto tappe che percorrevano tutta l'Italia partendo e arrivando a Milano per un totale di 2448 km, quasi tutti su strade sterrate. La prima tappa, una comodissima Milano-Bologna, contava 397 km e fu vinta in 14 ore e 6 minuti dal 22enne romano Dario Beni, che pur di partecipare al Giro era andato qualche giorno prima della partenza da casa sua a Roma fino a Milano, neanche a dirlo, in bicicletta. Ma non vi era solo lo sport, le straordinarie qualità di questo mezzo lasciavano immaginare utilizzi diversissimi fra loro, anche in ambiti assai bizzarri. C'era già, ad esempio, a fine Ottocento, chi immaginava un utilizzo militare della bicicletta, magari per esplorare nuovi territori e tracciare mappe molto precise, oppure per trasportare armi o addirittura per sostituire la cavalleria. Il tenente colonnello Sabino Sella, nel 1896, raccontava come fosse già stato possibile montare una mitragliatrice funzionante su una bicicletta, oppure unendone due addirittura un cannone. Sempre nello stesso scritto, con un modo di fare tristemente tipico per l'epoca, il tenente colonnello Sabino Sella si preoccupava di ricordare poi che la bicicletta era un ottimo rimedio contro l'anemia, la paura congenita e la timidità irragionevole del sesso gentile. Non ce la possiamo fare. Al di là dello sport e delle belligeranti fantasie dei militari, la bicicletta divenne quasi subito un mezzo di trasporto amato da tutti, donne e uomini, ricchi e poveri. Non soltanto legato al lavoro, fu chiaro a molti che la bicicletta era uno strumento preziosissimo per viaggiare, per scoprire il mondo, per esplorare e per divertirsi. Tanto è vero che già nel 1894, nella città della bicicletta per eccellenza, cioè Milano, fu fondato il Touring Club ciclistico italiano, che nel 1937 arrivò a contare quasi mezzo milioni di iscritti e promosse valori di straordinaria attualità. Inebriati dal boom economico, dalla ricchezza, dall'ozio, nonché dalla velocità delle automobili, molti si sono dimenticati della bicicletta, almeno per un po'. Oggi, tuttavia, il valore di questo mezzo, la possibilità di intrecciare strettamente salute, divertimento, turismo e anche ecologia, sembra essere tornata quella di un tempo. Come diceva una pubblicità del 1894, tu, percorrendo a piedi la via che devi fare, non sai cosa vuol dire volare e camminare. O smetti disgraziato di battere la strada. Monta sul velocipede e vada come vada. Grazie a tutti.